E siamo alla pagina amministrativa. Nuovo attacco da parte della consigliera comunale di opposizione Laura Di Pilato nei confronti dell'amministrazione comunale Andriese. Rea di non consegnare le forze politiche il piano di risanamento dei conti del comune, ma nel mirino ci sono anche i costi della giunta comunale. Ascoltiamo. Mancano davvero pochi giorni alla scadenza della presentazione del piano di risanamento del comune di Andria. Eppure? Più che presentazione lo dobbiamo portare in consiglio entro il 27 novembre. Eppure ad oggi nulla si sa. Io oggi sono uscita sulla stampa perché il 27 dovrebbe essere portato in consiglio. Bisogna calcolare almeno 5 giorni prima per la convocazione del consiglio comunale. Altri 3-4 giorni per portarlo nelle varie commissioni. Altri giorni per presentarlo alle minoranze e maggioranze per poi portarlo alle commissioni e quindi decidere se bisogna portare delle modifiche. Ergo sarebbe oggi o domani. Quindi noi ad oggi non sappiamo assolutamente nulla. Quello che so è che hanno nominato un professore universitario di Chieti per coaudivare il finanziario nella redazione di questo piano. Ma io mi chiedo con quali soldi verrà pagato. Avevamo un dirigente finanziario. È stato revocato. Adesso ne aggiungiamo un altro. A spese di chi? Sempre dei contribuenti? Avete sollevato anche l'altra vicenda che è quella relativa proprio ai compensi degli assessori con una proposta di riduzione del numero degli assessori vista la situazione. E certo. Questa proposta già venne fatta un po' di tempo fa da 9 a 5 anche perché ci sono degli assessorati completamente vuoti. uno che celebra il matrimonio, uno che partecipa alle feste di parrocchia. Alla fine percepiscono un'indennità pari a 2.840 mensili. In questo momento c'è gente che va alla Caritas a mangiare. Ma io voglio che l'amministrazione si renda conto di questo. Noi paghiamo come amministrazione oltre 300.000 euro annui a questa giunta di 9 assessori di cui parecchi assessorati vuoti che possono essere accorpati ad altri assessorati e quindi con un gran risparmio. E con quei soldi, dottor Rossi, potevamo pagare i libri di testo perché i 180.000 euro dalla regione sono arrivati e chissà per quale motivo sono volatilizzati e sono andati a finire in altri capitoli di spesa. I bambini oggi stanno con le fotocopie. E non è bello bambini elementari che hanno bisogno dei libri colorati e non delle fotocopie. E poi in consiglio comunale non ci si presenta. E poi in consiglio comunale non ci si presenta quando invece sarebbe stato secondo me più logico venire, dare le proprie motivazioni e lasciare l'aula. Io ci sono stata. Io ho dichiarato che quel piano non andava bene. Punto per punto. Io ad oggi voglio ancora sapere ma per il carico e scarico quanto costa? L'assessore Matera non ha ancora risposto in consiglio. Grazie. Grazie. Grazie.